benvenuti a mattin sicuro correte a vedere il torneo delle regioni Siamo la rappresentativa siciliana, oggi abbiamo giocato tutti il Trento, abbiamo partito 1-1, ecco qua l'autore del gol Buongiorno a tutti, il segnale rappresentativa è un'emozione fantastica Salutiamo tutti e a quelli che ci stanno seguendo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti